per il nostro spazio interviste oggi la nostra chiacchierata la impostiamo da una parte la musica e dall'altra il tango perché vi dico questo perché l'ospite che abbiamo collegata a questa doppia passione e che cosa di lei possiamo dire che è una passione per la musica da molti anni suona il sassocono e davvero una bella ragazza ma al tempo stesso ha anche una bellissima passione per il tango che ha ricavato nel corso della sua attività lavorativa e che sicuramente è nel suo dna e così susanna va già sì è così è proprio come dici innanzitutto buon pomeriggio ben trovata grazie di essere con noi ciao buon pomeriggio allora partiamo dalla passione per la musica tu suoni un bellissimo strumento e ti chiedo come è nato tutto ciò allora è nato per mio padre perché aveva già la passione della musica e mi ha proposto di suonare quando ero giovanissima e io avevo voglia di fare qualcosa e l'ho accettato ben volentieri anche se non sapevo ancora che strumento fosse non sapevo niente lui alla sera mi mi suonava delle serenate con la chitarra perché mia mamma lavorava di notte e allora eravamo io mio fratello mio padre ci faceva queste serenate con la chitarra per farci addormentare anziché cantarci la storia e diciamo che la musica mi ha già un po mi ci sono affezionata diciamo già in quel modo lì e poi tutto in divenire senti susanna quando quanto è stato difficile per te impossi piano piano in un cammino musicale come questo diciamo che ci sto ancora provando nel senso che non si finisce mai di scoprire nuove avventure nuove collaborazioni e quindi non mi sono mai resa conto della fatica diciamo perché sono sempre concentrata su un nuovo obiettivo e questo obiettivo quale sarebbe susanna piccoli obiettivi sempre nuovi all'inizio quando studiavo conservatorio era raggiungere gli esami era raggiungere il diploma dopo era raggiungere una prima situazione lavorativa con tutte queste difficoltà poi raggiungere qualche piccolo concerto poi raggiungere l'obiettivo di suonare anche da sola non è che ho mai ambito diventare famosa ma a fare quello che mi piace questo sì parecchio senti susanna posso chiederti come hai passato questi due anni così difficili con la pandemia allora io devo dire la verità che li ho passati bene perché io abito in montagna e noi gente di montagna siamo abituati un po a essere soli essere forse anche più introspettivi non so se è un bene o un male però non mi sono neanche resa poi conto più di tanto della mia attività l'ho passato questo tempo a studiare anzi per me devo dire che sono stati due anni rilassanti perché ho potuto stare tranquilla a casa preparare cose nuove e poi oggi avendo anche internet il mondo sempre a portata di mano quindi in realtà per me è stato un momento anche rilassante dove ho potuto studiare dopo ho potuto comunque cercare di crescere mi posso permettere di dire anche con una punta di romanticismo che i tuoi occhi valgono più delle parole che ci stai dicendo ok grazie wow adesso c'è un'altra passione che per susanna è importante è una splendida magia patrimonio dell'umanità unesco è una danza che difficilmente si troverebbe da altre parti e il tango vero susanna è sì è unico com'è nata questa ma passione per questa danza meravigliosa allora è nata che ero un po confusa dal punto di vista lavorativo perché con lo strumento ancora non riuscivo tanto a trovare dei lavori e però fra le note che suonavo mi è capitato di suonare un pezzo di piazzolla e che è libertango e dicevo mamma mia quanto è bella questa musica è divina e da lì sono incappata per caso in un corso di tango e sono rimasta affolgorata e mi sono iscritta a un piccolo corso poi da lì la situazione mi è sfuggita un po di mano e mi sono trovata sul palcoscenico fare esibizioni cose che non pensavo neanche neanche io insomma ricordi ancora l'emozione della tua prima milonga susanna ricordo l'emozione del primo tango il primo tango quello sì perché poi sai ora che si va in milonga così ci passa un po di tempo tu lo sai bene perché sei un tanghero provetto anche tu quindi però io mi ricordo molto molto bene la sensazione di quell'abbraccio dei primi movimenti su quel tango non so è come se avesse sempre fatto parte di me quanto nel tango conta l'educazione non solo in milonga ma anche studiandolo conta tantissimo è fondamentale anzi è una delle regole portanti proprio è un gioco di regole e quella è una regola mi posso permettere di parti una mirata ok qual è la parte del tango che ti piace susanna la variazione la parte finale dove si dà tutto dove il ballerino ti propone tutto e tu devi essere concentrata fino all'ultimo per rispondere e bellissimo dove c'è la maggiore intensità quindi gli ultimi 40 secondi io non aspetto altro ecco per vedere cosa succede susanna prima di lasciarti da questa piacevole chiacchierata e naturalmente ringraziando ti anticipatamente di tutto ciò ti chiedo quali sono le musiche di tango che ami beh allora mi piace varela color tango tantissimo pugliese sicuramente gallosiego caffè dominghes anche mi piace anche piazzolla oddio è pieno di bellissimi tanghi e mi piacciono quelli potenti per dirlo in parole poveri ecco e io mi posso permettere anche di aggiungere che modestamente essendo anche io tanghiero variella mi piace pugliese anche mi permetto di aggiungere anche di sarli e da rienzo susanna anche di sale da rienzo che non stufano mai non stufano mai questa è sicuramente una buona dose di fiducia e così come la stessa fiducia e passionalità che auguriamo a susanna per raggiungimento dei suoi obiettivi e da un punto di vista musicale e anche da un punto di vista del tango e naturalmente grazie veramente di cuore per essere stata in nostra compagnia grazie ciao ciao ciao